TSD Notizie e Chiesa La visita pastorale riparte dall'Alto Casentino, l'Arcivescovo Fontana, siamo una chiesa in uscita che vuole incontrare tutti. La Caritas Diocesana Lampedusa per aiutare i migranti in arrivo sull'isola. Toscana e i media fanno link su avvenire l'esperienza del consorzio che unisce Toscana Oggi, TSD e TV Prato. Il calcio parla arabo ad Arezzo, torneo di beneficenza per i bambini palestinesi con Paolo Rossi e Ciccio Graziani. E infine il significato del tempo al centro di un incontro biblico promosso dall'Avad. Come anticipato poco fa nei titoli di apertura apriamo il nostro notiziario con domenica 4 maggio, giorno in cui è ripartita dall'Alto Casentino la visita pastorale dell'Arcivescovo Riccardo Fontana attraverso la diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Nella messa d'avvio a Poppi il seminarista Luca Vannini ha ricevuto il Ministero dell'Accolitato. E' ripartito da Poppi il cammino dell'Arcivescovo Riccardo Fontana attraverso la diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Questa seconda parte della visita pastorale è dedicata all'Alto Casentino. Domenica 4 maggio si è celebrata la messa di avvio preceduta dalla processione della compagnia del Beato Santorello da Poppi e trasmessa in diretta da TSD dall'Abadia di San Fedele. Una chiesa in uscita ha detto Papa Francesco e proviamo, proviamo a uscire anche noi. La volontà di passare di comunità in comunità cercando di incontrare tutti è il senso di questa visita. La voglia di incontro, sì, di incontro con tutti, andandoci a cercare tutti, anche quelli che di solito un vengono da noi, ce li andremo a cercare con semplicità. Con la voglia di non giudicare nessuno, di non avere la presunzione di sapere tutto, di avere invece la voglia di imparare da tutti. Durante la celebrazione il seminarista Luca Vannini ha ricevuto dall'Arcivescovo Fontana il Ministero dell'Accolitato, ulteriore tappa verso il sacerdozio. L'Accolitato è un servizio, un ennesimo servizio che viene chiesto a me, come anche a tutti quelli che sono in un cammino verso il sacerdozio, e mi aiuta e mi insegna già ora a essere amico e servitore e anche aiuto alle persone che sono più in difficoltà, come poveri, ammalati. Infatti uno dei tanti compiti anche dell'Accolitato è quello di portare la comunione alle persone inferme e malate. Come nella prima parte della visita che da gennaio a marzo ha coinvolto il basso e medio casentino, il percorso non si limita alle celebrazioni. L'Arcivescovo ha iniziato ad incontrare le realtà laicali e pastorali dell'intera area partendo dai catechisti. Il servizio. Terminata la prima parte, la visita pastorale riprende, questa volta nell'Alto Casentino, l'incontro con i catechisti, una delle prime tappe di questa seconda parte. Non a caso il Vescovo questa sera ha voluto richiamare proprio come quello dell'annuncio sia uno dei primi ministeri, sicuramente uno dei ministeri fondanti, la fede della comunità, una comunità che genera la fede, è la comunità che il Vescovo visita e che il Vescovo vuole far crescere e maturare. Stasera si è stabilito una bellissima comunione fra i catechisti e il Vescovo primo catechista che ha tenuto conto realisticamente anche delle difficoltà, dei problemi che si incontrano nella catechesi, ma non ha perso la profezia che è nella visita pastorale, quella di immaginare e di costruire insieme la chiesa fondata sulla catechesi, sulla liturgia, sulla carità. La chiesa del Signore Risorto, che è la chiesa della gioia di vivere la fede. Presenti molti giovani, questa sera ha un elemento importante che dà speranza. È un elemento numericamente crescente, come centro pastorale per la catechesi ce ne siamo accorti e per questa ragione quest'anno abbiamo voluto fare alcune proposte formative specifiche per questa fascia d'età. Chiaramente sono ragazzi giovani, hanno il dono del loro linguaggio, della loro presenza, hanno la necessità, come tutti i catechisti, di formarsi ed è opportuno che questa formazione sia in qualche modo calibrata sui loro linguaggi e sulle loro modalità. La nostra emittente seguirà passo a passo le varie tappe della visita pastorale. TSD trasmetterà in diretta la messa a Subbiano in calendario per il primo giugno alle ore 18 e quella ospitata dalla chiesa di Soci domenica 8 giugno alle ore 18.30. Agli incontri con le varie realtà dell'area pastorale saranno dedicati servizi quotidiani nei notiziari, una puntata speciale di Password ogni venerdì alle ore 19.30 e la trasmissione I luoghi della fede. E' possibile seguire le trasmissioni anche un'ora più tardi su TSD più 1 al canale 631 delle digitali terrestre. Voltiamo pagina la Caritas diocesana Lampedusa per aiutare i migranti in arrivo sull'isola. A seguito della storica visita di Papa Francesco a Lampedusa del luglio dello scorso anno, Caritas Italiana e Caritas Agrigento hanno promosso un'iniziativa di formazione e condivisione rivolta alle Caritas diocesane d'Italia, non direttamente coinvolte nell'accoglienza dei profughi provenienti dal Nord Africa. Come segno di vicinanza e solidarietà, la Caritas diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro ha deciso di partecipare a questa iniziativa mettendo a disposizione due operatori che dal 5 al 12 maggio saranno nell'isola a completa disposizione della Caritas di Agrigento. Oltre al coinvolgimento in fase di emergenze legate a nuovi sbarchi o rivolta ai profughi presenti nei centri di accoglienza, gli operatori saranno coinvolti anche in attività di animazione rivolte alle comunità ecclesiali isolane, in particolare verso anziani, bambini, disabili e infine di supporto ai vari servizi Caritas. Il 28 febbraio scorso, a circa due anni dal suo inizio, è terminato lo stato d'emergenza causato dagli eccezionali arrivi di migranti dal Nord Africa, cominciato con gli sbarchi a Lampedusa di cittadini tunisini, cui sarebbero seguiti gli arrivi dalla Libia di persone originarie di molti paesi africani. Alla chiusura in via amministrativa di questa emergenza, non ha corrisposto però la fine degli sbarchi e dei problemi collegati all'accoglienza di migliaia di persone che ancora oggi attendono risposte e vivono una condizione di grande incertezza e precarietà esistenziale. Inoltre, più di 25.000 persone nei primi quattro mesi dell'anno sono sbarcate nelle coste italiane, un numero superiore a quello di tutto il 2013. Altri 20 profughi sono arrivati nei giorni scorsi in provincia di Arezzo. È il terzo arrivo in due mesi, sono tutti giovanissimi ragazzi intorno ai 20 anni in fuga dall'Eritrea. Sbarcati all'aeroporto di Pisa il 30 aprile, sono poi stati trasferiti in casentino a bordo di vari pullman. In Toscana ne sono giunti in totale 130 con un volo speciale da Catania, provenienti dai centri di accoglienza della Sicilia, dopo gli sbarchi di fortuna a bordo di Barconi. I migranti scappati da carestie e da guerre civili sono stati destinati alla Toscana del governo. La gestione dell'accoglienza è coordinata dalle prefetture portate avanti in provincia di Arezzo, dalla Croce Rossa e dalla Misericordia. Toscana e i media fanno Link, questo il titolo dello speciale che Il Quotidiano Avvenire ha dedicato all'esperienza del consorzio Toscana Link che dal 2012 unisce TSD, Toscana Oggi e TV Prato. Su questo sentiamo il commento di Andrea Fagioli, presidente del consorzio, nonché direttore della nostra emittente delle settimanali regionali Toscana Oggi. La pagina che oggi Il Quotidiano Avvenire dedica al consorzio Toscana Link è un importante riconoscimento al lavoro di questa emittente e della collaborazione con un'altra televisione diocesana, TV Prato, e con Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi della regione. Queste tre realtà infatti hanno dato vita ad un'esperienza unica nel panorama italiano dell'editoria, lo riconosce lo stesso avvenire in questa pagina appunto di oggi. Un'esperienza unica di un consorzio che unisce carta stampata, televisione e internet e si mette al servizio delle diocesi con professionalità diversificate. Ciascuno però conserva la propria identità, anche se a livello di territorio ognuno ha una strategia, una strategia che però in ogni caso diventa comune, comune dei vari mezzi, la carta, la televisione, internet, per arrivare a tutti, ai lettori in generale più anziani, se vogliamo, che sono quelli del giornale cartaceo più maturi, fino ai giovani che sono i frequentatori della rete di internet. E quindi strategia comune in questo senso, strategia comune anche se resta diversa la missione del territorio di ciascuna di queste emittenti, di ciascuno dei giornali, ciascuna delle edizioni, delle sedici che compongono Toscana Oggi. Ecco, però in ogni caso strategia comune come media cattolici. In questo senso media cattolici che rispondono ad un appello del Papa, quello della Chiesa in uscita, tema caro a Papa Francesco, ripreso anche dal nostro arcivescovo come tema della visita pastorale. In uscita per incontrare la gente e andare verso quelle che il Papa definisce, le periferie esistenziali. Questo è il limite a cui si cerca di arrivare, quindi verso tutti fino alle periferie esistenziali. Lunedì 12 maggio a partire dalle ore 10, nuovo appuntamento con il tradizionale incontro fra gli iscritti e i simpatizzanti dell'Unione Apostolica del Clero. Adreini di Gargonza, il programma prevede l'accoglienza, la recita dell'ora media, la meditazione, la benedizione eucaristica e il pranzo presso il ristorante Il Cacciatore. Sabato 10 maggio invece dalle ore 15, ultimo appuntamento del ciclo Incontrare la disabilità, il corso di formazione realizzato dalla Pastorale della Salute. Previsti tra gli altri gli interventi di Giampaolo Donzelli sul tema I traguardi della scienza medica, Giovanni Battista Guizzetti su Riabilitare o Riabitare il corpo umano e Gianni Scopelliti con la relazione dal titolo Imparare un nuovo linguaggio per la relazione con gli altri e con il mondo. Il calcio parla arabo, torneo di beneficenza ad Arezzo per i bambini palestinesi con Paolo Rossi e Ciccio Graziani. A promuoverlo Don Paolo De Grandi, ex giocatore del Verona e oggi parroco di Campolucci. In tempi in cui il calcio torna a far parlare di sé in termini negativi, c'è chi lontano dai riflettori continua a lavorare per fare dello sport uno strumento di dialogo e solidarietà. Lo stadio comunale di Arezzo ospiterà venerdì 16 maggio un torneo di calcio di beneficenza a favore del progetto Bambini senza confini che coinvolge 1.200 piccoli palestinesi della Football Academy di padre Ibrahim Faltas, frate della custodia francescana di Terra Santa. L'iniziativa, attraverso l'associazione Oasi di Pace, da anni raccoglie fondi a favore di questi bambini attraverso manifestazioni come il torneo retino che vedrà affrontarsi in campo la nazionale italiana federazione Master, l'associazione SD ex giocatore alla Sberona, la rappresentativa italiana Magistrati e la rappresentativa All Star Amici del Don. I fondi serviranno a coprire le spese dei biglietti aerei e del visto per far giungere i piccoli calciatori dai territori palestinesi a Verona ed Arezzo. Qua verranno ospitati per una settimana a giugno dalle famiglie di Campoluce e Castelluccio. Tanti grandi nomi del calcio e dello spettacolo che prenderanno parte al torneo, da Paolo Rossi a Ciccio Graziani, passando per Giancarlo Antognoni, Tottoschi Laci e Stefano Tacconi, ma anche personaggi dello spettacolo come Neri Marco Re, Dario Vergasso e Alessandro Giacobbe. Tra i promotori, Don Paolo De Grandi, ex calciatore dell'Ellas Verona ed oggi parroco di Campolucci. Proprio lui era capitano della nazionale sacerdoti calcio quando la squadra giocò una partita a Betlemme contro la nazionale palestinese, venendo così a conoscenza della realtà della Football Academy. Si può attraverso 10 euro, venendo allo stadio, regalare questo sorriso, questa opportunità a questi bambini di aggregazione per loro, che è un sogno a vivere questa settimana dal 15 al 22 giugno nella nostra terra retina. Lo stesso Paolo Rossi, campione del mondo e fin dall'inizio sostenitore del progetto, ospiterà a casa sua due bambini durante il loro soggiorno ad Arezzo. Col calcio si arriva, con lo sport in generale, laddove non riescano ad arrivare la politica e tante altre cose. In questo caso è una situazione estremamente delicata, la situazione del Medio Oriente, lo sappiamo da quando siamo nati, perlomeno da quando sono nato è sempre stato così. Non so se arriverò a vedere la pace, però qualcosa cerchiamo di fare noi con questo progetto. L'Avad, l'associazione volontari a domicilio, promuove per mercoledì 14 maggio un incontro biblico incentrato sul tema del tempo. La serata, che si terrà a partire dalle ore 21.15 nella chiesa di Sant'Agnese in via Pelliceria ad Arezzo, verrà introdotta dal vescovo emerito di Fiesole, Monsignore Luciano Giovannetti, e prevede gli interventi di Luca Buccheri e Monica Rovatti della Fraternita di Romena. Inseguiamo il tempo con l'illusione di poterlo fermare perché non accettiamo il limite, spiegano gli organizzatori. In realtà possiamo godere di ogni momento della vita solo se viviamo immersi dentro il suo flusso continuo e sappiamo entrare in una dimensione nuova del tempo, più qualitativa e autentica, in cui la priorità non è il possesso, ma l'incontro. La serata sarà dedicata al ricordo di Giancarlo Ciofini. E questa era la nostra ultima notizia, non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento alla prossima settimana con TSD Notizie Chiesa. Grazie e buon proseguimento con i programmi di TSD. Grazie.